Una piccola premessa prima di iniziare a sviluppare il contenuto di questo video. Non facciamone una questione di tifo, non facciamone una questione di Inter, Napoli, Juventus, Milan, Torino, Pordenone, Alzanovir Eshit. Insomma, il fenomeno razzismo va combattuto e non deve dividere. Io credo che poi della vicenda Cerbi l'aspetto peggiore sia proprio questo, ovvero che ci sia un'interpretazione proprio per quanto concerne il discorso razzismo. No, il razzismo va condannato sempre e costantemente perché il razzismo è vivo nella nostra società e ce n'è il calcio. Non dobbiamo nasconderci. Ci sono società come la Juventus che si sono attivate in primissima linea quando hanno visto, hanno constatato qualcosa che non andava bene e collaborando con le autorità competenti determinate persone sono state individuate e allo stadio non possono più venire. Alcuni in maniera temporanea, altri anche in maniera definitiva, tra l'altro consigliando come la Juventus abbia un codice di gradimento interno e quindi giustamente a casa sua fa entrare chi vuole e sicuramente non fa entrare i razzisti. Fatta questa premessa, sapete perfettamente come ieri a Cerbi si è stato assolto al giudice sportivo dall'accusa di razzismo nei confronti di Juan Jesus perché sostanzialmente non esistono prove. Devo dire che mi è piaciuto molto un tweet di Marco Corradi che ha scritto la soluzione per assenza di prove non comporta l'assenza degli insulti razzisti. Cioè se io non riesco a testimoniare in maniera oggettiva che X abbia detto Y a una persona non significa che però queste parole possano essere state dette o non dette. Cioè è un po' un'interpretazione. Ovvio, io sono anche abbastanza d'accordo con coloro che dicono, sostengono che senza garantismo salterebbe o salta lo Stato di diritto. Quindi senza buttarla troppo in chiacchiere da bar, leggendo anche le motivazioni al giudice sportivo, non è che abbia dato ragione ad Acerbi, non è che abbia probabilmente creduto alla sua versione. Però se non ci sono prove oggettive concordanti, sembra che proprio in questo caso non esistano, le parole di chi ha ricevuto probabilmente quegli insulti valgono zero. Cioè in questo caso la versione di Juan Jesus vale zero. C'è chi sostiene che da un punto di vista giuridico la sentenza sia stata perfetta, altri invece la vedono più come una sorta di zona grigia o comunque come un quadro che porta poi all'interpretazione e quando si arriva all'interpretazione su fenomeni così importanti non va mai bene. Qui io sono molto molto curioso di sapere il vostro punto di vista, perché le vostre analisi sono spesso e volentieri top e mi fanno ragionare, mi fanno pensare e mi offrono spunti che magari non ho. Devo dire che anche in questo caso secondo me non ne usciamo bene e per non ne usciamo bene parlo di noi proprio come società. Cioè mi metto nei pagni di un ragazzino, di un bambino che può venire a sapere di questa vicenda pur non comprendendola nel dettaglio, però come gliela spieghi? Cioè che magari tizio ha detto queste frasi nei confronti di una persona di colore la passa liscia? Cioè quale può essere l'idea di questo bambino, ragazzino, bambina, ragazzina? Io non riesco a andare oltre, non riesco a andare oltre perché questo non deve nemmeno passare come... Cioè io capisco il punto di vista del Napoli quando dice, beh, ora il colpevole è qua in Jesus, in maniera ovviamente ironica. E capisco anche quando il Napoli dice, noi non collaboreremo più con le istituzioni quando dovremo combattere questo fenomeno, questo tema, perché poi se questi sono i risultati di cosa parliamo, che battaglie facciamo assieme, solo sulla carta, solo a mo' di slogan, poi nel concreto non si risolve niente. D'altra parte, questo è un altro problema perché poi tutti si sentono dalla parte della ragione e anche lo stesso Acerbi può continuare a dire in assenza di prove oggettive, io determinate cose non le ho dette, mi sembra che sua moglie Claudia, non vorrei sbagliare il nome ieri, abbia fatto un post, una storia su Instagram dicendo, leoni la tastiera, ora sciacquatevi la bocca. Quindi, ha ragione con Jesus, sente di avere ragione a Acerbi, sente di avere totalmente ragione il Napoli. Purtroppo, quando si arriva a questo punto è un fallimento per tutti, è davvero un fallimento per tutti. Però, siamo veramente anche davanti a questi episodi, non episodi, non riusciamo a farne una questione di società. Invece si parla sempre di tifo, il nero-azzurro, il bianco-nero, l'azzurro, riferendosi ovviamente alle squadre che rappresentano questi calciatori e invece davanti a un problema così enorme, un tema così anche impattante, direi disturbante, perché io non vedo il motivo per cui Juan Jesus si sia dovuto inventare tutto questo, non avrebbe senso. E' anche un professionista, tutti dicono molto serio. Mi sembra che a caldo l'avesse anche gestita con grande lucidità, poi a freddo, giustamente, esploso. Io credo che quando becchi, se li hai beccati, degli insulti di tale caratura, solamente se li provi in prima persona puoi comprendere quanto possano far male. E quindi da questo punto di vista, se nessuno di noi ha vissuto un'esperienza simile, dovrebbe stare zitto e rispettare le difficoltà del diretto interessato, della persona coinvolta. Però purtroppo ne usciamo di nuovo male. Ne usciamo male, male, male. A me spiace soprattutto per l'esempio che non diamo alle giovani leve, perché poi sono coloro che in futuro calcheranno i palcoscenici che vanno per la maggiore, ma se non siamo degli esempi netti, se non contrastiamo il fenomeno in maniera unita, non facciamo strada. Ma non è solamente un discorso di calcio, un discorso proprio di società, perché il razzismo esiste. Ora, non nascondiamoci, questo è un fenomeno che esiste, è ancora ben lontano dal non esistere, e facendo così continuerà sempre più a esistere. Nel 2024 dobbiamo parlare di razzismo? Purtroppo sì, perché se poi questi sono i risultati dove tutti sentono aver ragione, alla fine questo è.